Konnichiwa a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K, oggi ci facciamo portare via dal vento con Twister in edizione Collector Edition e anche Twisters. No ragazzi c'era l'offerta al preorder, se seguite il mio canale Telegram e Whatsapp appena escono i preorder bloccatevi il prezzo, io ho bloccato questa a 20 euro, mi basta e avanza la Marei e oltretutto l'ho visto ieri sera, il film ve lo consiglio, purtroppo esiste questo e se esiste questo nel mio cuore c'è solo questo ma ci sarà molto da dire sull'audio di questo film. Ma comunque recensione prossimamente di Twisters, ragazzi edizione Marei, semplice tutte le cose che ci sono all'interno, l'ho già detto nel video mensile dedicato alle uscite 4K, c'è la cover reversibile, no ma quando mai Warner? Comunque sappiate che c'è anche la steelbook di Twisters se siete interessati ma noi andiamo ad analizzare questo adesso. Twister, il classicone del 1996 di Ian DeBond con Bill Paxton, il compianto Bill Paxton che io ragazzi ho avuto la fortuna di vedere al cinema. Guardate che bello, adesso aspettate, togliamo il cellophane, guardate che bello, guardate che bello che sembra che piova qua in contro luce, bellissimo, bellissimo. Io vi avverto che la Plyon mi ha detto che da loro sul sito è esaurita questa edizione, quindi qua sotto ci sono i link, nel mio canale ci sono i link, o andate semplicemente da Amazon, DVD Store, IBS, Feltrinelli, insomma cercate ancora questa edizione perché mi sa che non durerà tantissimo, comunque bellissimo, cioè che piove così è... mucca ora e due, bellissima. Da noi è distribuito da Universal mentre in America è Warner e questo nuovo in America è Universal e da noi è Warner e inverso. Ecco qui, anche qui tutte le specifiche audio e video le ho già dette nel video mensile delle uscite 4k e cosa che non c'era scritta sul sito della Plyon, il contenuto inedito, l'eredità di Twister, Taken by the Wind, l'intervista a Ian DeBond la ritroviamo qui all'interno, quindi vedete che a volte bisogna attendere l'edizione a casa propria per scoprire se c'è un contenuto speciale nuovo all'interno. E comunque vedo che c'è anche a caccia di uragani, questo era un extra che in America è stato tolto e hanno fatto spazio per questo, quindi se abbiamo anche questo e questo nuovo o magari questo qui nel 4k e tutto il resto è nel 1080p vecchio, sì, è probabile che questo qui nuovo sia nel 4k. Comunque ragazzi c'è anche il contenuto nuovo, figata, l'intervista nuova a Ian DeBond che parla anche del restauro del film e sì di questo avremo da parlare, dell'atmos di questo, mannaccia a voi, mannaccia a voi, ma di questo ragazzi, di questo atmos, mi aspetto meraviglie da cosa dicono, meraviglie ed è completamente diverso da quello fatto dalla Turbine e anzi in sede di recensione analizzeremo sia l'atmos fatto dalla Universal, Hollywood, chi fa i mix del cinema e anche un'altra casa come la Turbine che ha fatto fare un remix in Dolby Atmos. Comunque qua ci sono tutti i goodies all'interno, anzi cerchiamo di togliere qua, ok, e anche dietro c'è Bill Paxton e Helen Hunt che sono cosparsi dalla pioggia, bellissimo incontroluce, stupendo, stupendo veramente. Allora, qui c'è il poster all'interno di Twister, cioè ragazzi io mi ricordo ancora quando l'ho visto, anzi io ero ossessionato dalla videocassetta di Chuck con tutti i trailer dei film che sarebbero usciti nel corso dell'anno e ogni anno io compravo la videocassetta di Chuck con tutti i trailer all'interno. Opla, le bruciavo quelle videocassette con i trailer, vabbè di qua è tutto uguale, saranno di qua, eccolo qua, perfetto. Infatti sono molto curioso, gli ho detto a mia moglie, ti è piaciuto questo? Beh poi ti faccio vedere l'originale e mi dirai qual è meglio. Ma ragazzi ve lo consiglio, è quello nuovo, quello nuovo ve lo consiglio. Io ricordo ancora il trailer, ero ossessionato, ossessionato dal trailer. Mi è sempre piaciuto un sacco Twister, ho rivisto cos'era l'anno scorso l'edizione con l'altro remix Atmos fatto dalla Turbine ed è sempre un piacere riguardare questo film, per me è uno di quei film perfetti di intrattenimento, è proprio perfetto. Io non ci trovo difetti a questo film, io non gliene trovo, non gliene trovo. Comunque bel booklet ragazzi all'interno e poi qui c'è la steelbook, eccola qua, bella con la locandina originale, questa è la locandina originale, fantastico, fantastico. E ricordo cos'è, non avevo ancora il Dolby Surround a casa, quindi avevo la videocassetta e l'ascoltavo con lo stereo che era mono perché avevo il videoregistratore mono con due casse, una dove c'era il televisore e una dietro la mia testa dove dormivo. in mono, poi da lì mi hanno regalato il Dolby Surround, ma ho già parlato delle mie vecchie storie di gioventù in un altro video. Comunque questa è l'edizione Collector Edition, anzi mettiamolo qui il poster così non va perso, Collector Edition dedicata a Twister. Se ascoltate me ve la recuperate. Io stavo cercando uno sconticino, come dico sempre non si può comprare tutto al day one, però la Plyon mi ha detto che da noi è esaurita, quindi fai un po' tu se recuperarla o no. Comunque si è svegliata appena adesso mia figlia, quindi chiudiamo questo unboxing dedicato ai tornadi con Twisters e Twister, l'originale, e noi ci rivediamo in un prossimo video di Into the 4K. Quindi sayonara a tutti e bye bye! Grazie. 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 Grazie.